Ehi Bomber, ma dove vai con quelle scarpe? Per fare il cappo e aumentare il fatturato. Ti servono queste, l'outfit, prima di tutto. Signore imbruttito, per favore, torni a servire al reparto uomo che qua ci penso io. Beh, o mi raccomando, non fare il giorgiana, eh? Ma il democassino, di livello. Tutti possiamo fare la nostra parte. Questo Natale acquista e ordina nei negozi della Lombardia. Ripartiamo noi, ripartiamo tutti. Tac! Ah, una cosa ancora. Quello che avete appena visto è uno spot. Questa mascherina va portata sempre, specialmente quando si entra in un negozio. Buone feste e bei regali a tutti. Buone feste e bei regali a tutti. Buone feste e bei regali a tutti. Grazie.